San Saba, noto anche come Saba il Santo o San Saba Archimandrita, fu un monaco cristiano e fondatore di monasteri nel V secolo. Le informazioni sulla sua vita sono limitate, ma alcune affermazioni e idee chiave associate a lui potrebbero includere. 1 Nella solitudine, ho trovato la presenza più profonda di Dio. Saba potrebbe aver sottolineato l'importanza della vita monastica e della ritirata spirituale come un mezzo per avvicinarsi a Dio. 2 L'amore per la preghiera è il cuore della vita monastica. Il monachesimo spesso sottolinea la preghiera continua, e San Saba potrebbe aver posto l'accento sull'amore per la preghiera come fondamentale nella vita di un monaco. 3 Il silenzio è il linguaggio dell'anima in comunione con Dio. Il silenzio e la contemplazione sono aspetti importanti della vita monastica, e San Saba potrebbe aver riconosciuto il valore del silenzio come veicolo di comunicazione con Dio. 4 L'ospitalità è un dono sacro. San Saba è noto per aver promosso la pratica dell'ospitalità nei monasteri che ha fondato, evidenziando il valore spirituale di accogliere gli altri. 5 La disciplina del corpo è una via per liberare lo spirito. La vita monastica spesso include pratiche ascetiche, e San Saba potrebbe aver sottolineato il valore della disciplina del corpo come mezzo per elevare lo spirito. Se queste frasi ti sono state d'aiuto, ti chiedo di sostenermi iscrivendoti al canale e condividendo questo video con i tuoi amici. Grazie e a presto!